Click, ben ritrovati i miei cari eventori del Luisona Bar Calcio, novità riguardante il mondo rosso-blu e parliamo di calcio-mercato Per Petra Mertesacker, allenatore delle giovanili dell'Arsenal, ha detto sì, Calafiori Riccardo vale tutti i 50 milioni che il Bologna chiede perché è un giocatore forte Giocatore forte e quindi i giocatori forti valgono la cifra che i club di appartenenza vanno a richiedere per loro Quindi scusate se poco, Petra Mertesacker, ha detto questo, un signor difensore centrale della Germania e qui mi faccio l'assist Perché nelle ultime ore, tra l'altro successive a quando abbiamo pubblicato il video sulle spizzate di mercato Per cui iscrivetevi al canale, condividetelo e lasciate ore il vostro pollice alto Aveva già menzionato un certo Mats Hummels tedesco teutonico con cui con la Germania ha vinto il campionato del mondo E il Bologna sta pensando a lui, tra l'altro se non erro anche Mats Hummels di piede sinistro fa il centrale Dunque verosimilmente potrebbe essere lui l'erede di Calafiori di anni ne ha 35 Dunque il prossimo anno ne compirà 36 Ma è un giocatore che ha più di 600 partite all'attivo con, vado anche qua alla memoria Quasi se non oltre 50 gol segnati, ripeto difensore centrale E ha più di 70 partite con la nazionale teutonica Per cui quando io leggo che il Bologna si è interessato a Hummels Ma è operazione difficile perché il Hummels chiede 3 milioni di euro E il Bologna, sappiamo, ha un tetto degli ingaggi oltre cui non si vuole sforare E Hummels sforerebbe Io direi cosa? 3 milioni di euro e aggiungerei solo Mats Hummels seppur di anni 35 e oggi Campionato del mondo all'attivo 600 e passa partite nel campionato In generale ovunque egli ha giocato Quasi 50 gol segnati difensore centrale Più di 70 partite nella nazionale tedesca E chiede solo 3 milioni di euro Io dico una manna dal cielo Non facciamocelo sfuggire Non facciamocelo sfuggire Altro che non rientra nei piani I giocatori di esperienza servono Servono e il giocatore dà le cifre Sempre che siano reali, solo 3 milioni che vada a richiedere Dobbiamo firmare con il sangue Perché i giocatori come Mats Hummels in questo campionato Servono e come Basti pensare, perdonatemi, uno dice vecchio Quanti anni ha Serbi nell'Inter? Non ne ha quest'anno 37? No, perché poi dobbiamo incominciare anche a fare uno più uno Ragazzi, un conto è prendere i futuribili A me va benissimo, però insieme ai futuribili Vanno presi anche i giocatori D'esperienza Possibilmente forti E Mats Hummels l'anno scorso Ha giocato in totale più di 40 partite Alla veneranda età di 34-35 anni Del calibro finale di Champions League Annesse e connesse E scusate se poco E io dico che agli anni 35-36 Lui può giocare in Serie A Può giocare al Bologna E può giocarle anche tutte A tal degme Perché secondo me Mats Hummels sarebbe un acquisto Fantastico Un acquisto di una società Che sì, va a guardare A prendere un certo tipologia di giocatori Ma nel mezzo ci deve inserire Anche i giocatori di esperienza Come tra l'altro ha fatto lo scorso anno Andando a mettere in mezzo al campo Un certo Remo Freuler E poi è vero Remo Freuler non va a richiederne Tre di milioni Per carità è vero Ma qui stiamo parlando Non me lo fate, ripeto, per la terza volta Il curriculum vitae di Mats Hummels Che non me ne vorrà Remo Freuler E qua spiega Visto e considerato che sento già qualcuno di voi E dottore Ma se però ne dai tre a Hummels Poi viene a chiedere tre a Ursolini Viene a chiederle tre a Tizio, Caio, Seproio Cosa viene a chiedere a Ursolini Tre Gli si sbatte a Ursolini e company La carriera di Mats Hummels E gli si dice Quando te potrai vantare qua soppi il tavolo Un terzo della carriera di Mats Hummels Te allora potrai venirmi a rugare il cazzo Contrattualmente Cercando e volendo Prenderne quante Mats Hummels Ma te se non arrivi A un terzo della carriera Di un certo Mats Hummels Te da questa stanza In questa stanza Non puoi certo venirmi a chiedere L'ingaggio che noi andiamo a corrispondere Eventualmente a Mats Hummels Perché poi nella vita ci devono essere anche Le persone che usino il senso logico E esistono le eccezioni E Mats Hummels ha curriculum a tutte le eccezioni E vale tutte le eccezioni del caso Quindi anche questo discorso non varrebbe L'unico discorso che vale è Il Bologna ha la volontà di andare a comprare un giocatore Unicamente per quello che mostrerà sul campo E non con l'occhio di un ritorno economico Questa è la domanda La risposta l'avremo a presto Perché se il Bologna Sempre che sia vero che vada richiedane tre Tessererà Mats Hummels vorrà dire Che avrà guardato al campionato e alle prestazioni Se il Bologna non andrà a prendere Mats Hummels Allora vorrà dire Che abbiamo preferito andare a prendere profili diversi E profili diversi si parla Ad esempio di Pongrecic Oggi rimbalza l'onor della cronaca In maniera più prepotente Perché un giorno bisogna scrivere Dando un colpo al cerchio Un altro alla botte Per non fare sembrare ristagnante la notizia E poi sappiamo che verosimilmente Poi Sartori è su un obiettivo terzo Comunque noi parliamo anche di quello ovviamente Che si sa pubblicamente Si parla di Bijol Ma anche su Bijol Così come su Pongrecic La società di appartenenza Giustamente cerca e vuole capitalizzare Al massimo Il cartellino del proprio assistito E anche su Bijol Ho sentito L'udinese poter voler chiedere Tra i 15 e i 20 milioni di euro Anche allora bisogna anche lì Mettersi lì con la calcolatrice A fare dei conti Ma noi poi un Bijol Che comunque di anni quanti ne avrà Adesso sono in macchia Non ce l'ho sotto mano 24-25 Andrà per i 26 Non mi ricordo Ma se andiamo a spendere i 15-20 Noi verosimilmente Quanto ci potremmo poi eventualmente guadagnare Da una futura cessione Eventuale Tra 1-2 anni Quindi a 26-27-28 anni Di Bijol Siamo veramente sicuri Che ne valga 30 Che ne possa rivalere 20 Fa 3 anni O è meglio andare a prendere Un certo Matt Summers Che sai chi vai a prendere Sai quello che ti può portare E sai che ti appunto Rivaluterà anche tutti i giocatori Che sono appunto In costellazione vicino a lui Perché ovviamente giocare con Bijol È un conto Giocare con Matt Summers Al fianco è un altro conto Magari un Beuchema O un Lukumi Si esaltano di più Dico io non lo so Magari chissà forse Dico io E quindi si esaltano di più Tutta la squadra Giocoforza Ne giova Perché vuol dire Che si è andato in avanti In classifica Vuol dire che hai ottenuto Dei risultati Per cui i giornali Chiacchierano di te Bologna Football Club E quindi vuol dire Che poi Quando arriva l'estate I calafiori valgono 50 Vuol dire che I zilkze Valgono tutti i cartellino Che dicono di valere Peccato per la clausola E sono disposti comunque A dartene 40 Vuol dire che In Doie magari adesso Arriverà un'offerta da 30 Se non da 35 40 magari dalla premia Vuol dire che Lukumi Ne può valere 30 Vuol dire che Beuchema Ne può valere 25 Barra 30 Altrimenti In assenza di questo Se magari te Vai a risparmio Oggi Domani Beuchema Ne vale A stento 20 Lukumi A stento Ne vale 20 E così E così via Magari Zilkze Non ne valeva Più 40 Ti cominciavano A chiedere lo sconto E Tutta una cosa Appunto Ovviamente Che si va A scalare Quindi La situazione Ragazzi È questa Quindi Ci pensiamo Secondo me Sarebbe Un'ottima Un'ottima Mossa Poi Staremo A vedere Ovviamente Perché qua Si chiacchiera Si chiacchiera Sulle notizie Le reali Intenzioni Di Sartori Le avremo A breve Quando saranno I fatti A decantarle E Quando sarà Il momento Valuteremo La scelta fatta Ecco Per il momento Possiamo valutare La scelta fatta Miranda Gossens In assenza Di un ulteriore Giocatore Che si vada A tesserare Sulla corsia Di sinistra Rimanere Eventualmente Con Miranda E Licoiannis Non lo so Se Si possa Rivelare Essere Forse Stata la scelta Migliore Staremo Staremo A vedere Per il momento Diciamo che Dovendo scegliere Miranda Gossens Personalmente In assenza O uno Dell'altro Forse io Avrei optato Più per un Gossens Come Sicurezza E certezza Vuoi perché Il campionato italiano Lo conosce Vuoi perché Appunto Si è disimpegnato Sempre molto bene È un giocatore Che a bagaglio C'ha Sia La difesa Che la spinta Offensiva E sappiamo Quanti gol Può apportare Quanti assist Può mettere La riferto Cosa che Miranda Seppur più giovane Qui è il lato Positivo La futuribilità Che Miranda Ha E che invece Gossens Non avrebbe Però Per il resto È tutto un enigma Con il calcio Di Serie A Perché non ci ha mai Giocato Poi ovviamente Miranda Ha tutte le stimate Per essere Un ottimo acquisto Però anche qua È una scelta Politica Aziendale Prendere Miranda E non Gossens Allora vedremo anche qua Prenderemo Pongrecis Prenderemo Bijol Prenderemo Topolino Di 24 23 22 anni O andremo A rinforzarci Anche sul lato Esperenziale Andando a tesserare Matt Summers Seppur Dovendogli Corrispondere Un biennio Contrattualmente Da tre migliori Staremo A vedere Notizia certa Il Milan Non guarda più A Zirkze È stato Lo stesso Ibrahimovic A praticamente Farlo uscire Dai radar Dicendo che Zirkze È facente Parte del Passato Quindi il Milan È uscito Dalla corsa Verosimilmente Da quello che ho capito Perché il Milan Non intende Ingrassare Le finanze Di un procuratore E Ibrahimovic Ha disbrigato La situazione Dicendo Ci sono Procuratori Che Risolvono Problemi E altri Che li Creano Indi Per cui Quello di Zirkze Se l'equazione Non è sbagliata Sarebbe uno Che li va A creare Detto questo Comunque a Bologna Poco interessa Anzi forse Anche meglio Perché così Non andiamo a rinforzare Una nostra concorrente Si spera Diretta Perché appunto Abbiamo l'acquirente Eventualmente Fermo restando Che sarebbe meglio Forse non averci L'acquirente Perché così Vorrebbe dire Che Zirkze Possa rimanere A Bologna Che secondo me Sarebbe la soluzione Migliore fra tutte Ma sappiamo Che Zirkze Praticamente Anche con i suoi silenzi Con i suoi sorrisi A domanda Del giornalista Gli europei Praticamente Ha fatto capire Che Se si è capito Non l'ha detto Ma si è capito Che lui se ne vuole andare E quindi Il Manchester United Sembra essere disposto A pagare La ogni Così come L'Arsenal Per l'appunto Calafiori Pagare La richiesta Del Bologna Quindi per cui Veloce Poi la chiudiamo qua Da Calafiori Ne entrano 50 Ma sappiamo Che ne manteniamo Alla metà Quindi ce ne vengono 25 Da Zirkze Più o meno La stessa Quindi ci entrano 50 milioni Più i 30 Sicuri Che ci entrano Dalla conquista Della Champions League Andiamo a detrarre Ovviamente I rinnovi Che abbiamo fatto Andiamo soprattutto A detrarre L'acquisizione Di Olme Che l'abbiamo pagato Sui 7 milioni Seppur mi sembra Non tutti subito Ma con un presito Oneroso Più un obbligo Di riscatto Quindi anche qua In realtà Non andiamo A scalarli totalmente Ma gradualmente E quindi Voi capite Che il Bologna C'ha una cassa Esorbitante A disposizione La domanda è Li andremo a spendere O li andiamo a mettere Come quel tesoretto Che serviva Per andare A fare Il rinnovo Lì dello stadio Della ristrutturazione No perché A questo punto Visto che Sembriamo Non avere i sodi Guardiamo là Guardiamo qua Ragazzi Qui c'è da prendere I giocatori forti Cominciamo bene A prendere Matt Summers Che di Carterino Costa zero L'ingaggio Chi deve Dai ragazzi Non sarà mica un problema Campanaccio Pastorale Sempre attivo Box commenti A vostra disposizione Fatemi sapere la vostra E ci sentiamo Alle prossime Chiacchiere da bar